Buongiorno a Radio Design, oggi siamo in compagnia, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing, studente anche un tempo, certo, sono con Alessandro De Ledda. Buongiorno, ciao a tutti. Che si porta dietro questo cognome che tutti conoscerete, se non sbaglio Nobel, giusto? Premio Nobel, premio Nobel per la letteratura. Quante cose sono, mamma mia. Oggi di cosa parliamo? Parliamo non di letteratura, ma di musica. Sì. Perché ci sarà un'inaugurazione imminente, giusto Alessandro? Giustissimo. Che sarà il 30 settembre. Domenica 30 settembre. Di questa scuola di musica che si chiama Piano Solo. Piano Solo. Allora, parlaci intanto della struttura e come nasce. Allora, Piano Solo nasce da una mia idea dieci anni fa, questo è il decimo anno, entriamo nel decimo anno, ed è una scuola dedicata ad un pianista che è Luca Flores, che io ho avuto modo di, così, di ascoltare, di appassionarmi alla sua storia. C'è stato scritto un libro, è uscito un film e ho deciso di fondare un'associazione culturale dedicata ai pianisti, che è durata ben poco perché poi la grande richiesta, così, di lezioni, di didattica, di approfondimento, così, generico, ha creato un bacino di utenza da parte di tanti ragazzi e presto Piano Solo è diventata una vera e propria scuola. Da Piano Solo a Piano Tanti. A Piano Tanti, sì, 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 tantissimi. E il 30 settembre inaugureremo la nostra nuova sedeone e Open Day. Dove si trova la sede nuova? La sede nuova è in via Pievaiola 166, vicino al Corriere dell'Umbria. Tanto per intenderci accanto, ci sono anche altre attività, lì c'è un centro danza, c'è una palestra, c'è una scuola di ballo e siamo arrivati noi, insomma, un po' a rompere le scatole con la musica. La musica non rompe mai le scatole. Quali sono i corsi che possiamo trovare all'interno della scuola? Allora, da quest'anno il piano dell'offerta formativa è sensibilmente arricchito dall'approfondimento modulare. Nel senso che andiamo da tutti gli strumenti, o quasi tutti perlomeno. Anche il clavicembalo? No, il clavicembalo, allora, clavicembalo potremmo poi entrare in un altro tipo di discorso, però abbiamo il nostro insegnante di propedeutica, che è un grande clavicembalista, il maestro Piaggio Quaglino, per cui anche il clavicembalo, anche il clavicembalo, anche il clavicembalo, vedi? Perché io mi sento molto clavicembalo in questo periodo. Ecco, però questo me lo hai fatto scoprire stamattina. Ecco. C'è anche il clavicembalo. Tu invece quale strumento prediligi? Beh, io sono un pianista, per cui... Ah, da lì piano solo. Sì, piano solo, dedicato insomma sempre al grande Luca Flores. Sono un pianista, però in questi giorni sto riflettendo. Ho scoperto, oppure anzi, sono convinto che potrei suonare bene o la tromba o il contrabbasso. Bene, allora io sono curioso. Sono quei dubbi, no? Che ti vengo, mi dici, ma se io avessi suonato un altro strumento, no? Anche io. Mi è venuto in mente il contrabbasso. Figo. Anche io, quando feci il... Imparai a fare il solfeggio da bambino, dissi, cosa potrei imparare a fare? Poi dopo due giorni ho smesso. Quindi forse tornerò a scuola per imparare veramente le basi. Le basi e poi il clavicembalo. Il delirio. Da lì. Il solfeggio e clavicembalo. E quali sono le altre materie che troviamo? Prevalentemente pianoforte e canto, perché storicamente i corsi di pianoforte e canto, soprattutto per la... sono tutti bravi gli insegnanti, però per pianoforte e canto e chitarra abbiamo sempre avuto grandi richieste. Probabilmente anche perché sono dei corsi più che appassionano immediatamente già fin dall'adolescenza, no? I ragazzi. Abbiamo violino, abbiamo saxofono, abbiamo batteria, percussioni. Quest'anno c'è un difartimento ritmico molto strong. C'è il maestro Sergio Servadia alla batteria e il grande Roberto Gatti alle percussioni, reduce dal suo concerto a Santa Giuliana con Quincy Jones. Poi abbiamo violino, abbiamo saxofono, come ho detto. Abbiamo il coro. Ecco, quest'anno noi inizieremo a costruire un coro. Per lanciarvi anche in qualche concorso, qualcosa? Beh sì, anche per registrare qualcosa, visto che la scuola di musica piano solo in realtà è un centro di produzione musicale, dove c'è uno studio di registrazione, tutte le aule sono cablate, per cui di giorno è scuola, di notte diventa studio di registrazione. Di mattina centro di aggregazione, dove ci sono anche le macchine del caffè. Stavo per dire ci manca solo un bar, invece tu mi hai... No, 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 assolutamente c'è il bar e a discrezione del direttore l'eventuale cantina. Per diventare ciucchi sul piano, mentre si canta. No, 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 questo dopo. Ah, quello dopo, giustamente. Per aiutare così l'improvvisazione. Però volevo dire che volevo parlare dei corsi modulari, moltistilistici, che prevedono anche l'ingresso ai nostri laboratori. Per cui c'è il maestro Goffredo Degli Esposti, che farà un bellissimo laboratorio di world music. Ci sarò io, il maestro Angelis e De Carolis, che porteremo avanti invece il percorso jazz, che è molto interessante e che appassiona. Abbiamo visto lo scorso anno molti ragazzi fin dall'età dei 14-15 anni. Per cui credo che questa nuova sede, quindi la presenza di una sala grande per portare avanti proprio questi laboratori, sia molto interessante, promettente ed importante. Non ultimo, la propedeutica musicale per bambini dai 3 ai 5 anni. Quindi l'introduzione ad un percorso, che è un percorso che noi chiamiamo Baby, che poi ti porta ad entrare nel percorso junior, fino all'età di 13 anni, e poi andare a fare i concerti. Quando ci sono i bambini, dimmelo perché non vengo, non li sopposto. Guarda, quando ci sono i bambini, in realtà non ci sono nemmeno io. Ah, benissimo. Ma non perché non li sopporti, ma... Perché a quell'ora stai dormendo. No, mi rinchiudo in studio e... Ti capisco, ti capisco molto. Però ci sono i maestri che sono veramente pazienti. Io, e beh, sono specializzati in questo. Ti capisco, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza. Io non ce l'ho, mi sa che siamo molto simili sui concerti. Sì, 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 sì. Che segno sei? Gemelli. E io sagittario. Vedi, gemelli e sagittario sono i due segni con... Top, direi. Top per la pazienza. Top, bene. La videomaker che segno è? Cancro, eh... Ma possiamo salutare? Salutiamo... Antonella Manca. Antonella Manca, ci sta facendo un piccolo video. Che Antonella Manca è un ingresso importante nella nostra scuola. Sì, infatti vi siete dotati di un esperto di web marketing. Esattamente, perché la nostra scuola deve essere web. Bene. Poi ci dicono, fai manifesti, costi, no... Ti perseguirà anche nel bagno, nella pausa. Ecco, esattamente. Antonella sarà quella di... La persona... Che spinge. Straordinaria, importante per i contenuti. Ma veniamo alla filosofia, perché sento che tu sei molto filosofo e ti chiedo... A volte. Visto che questo è un istituto di design, no? Come disegna la musica l'arte e la realtà che ci circonda? Attenzione, che domandona pazzesca. Hai solo un minuto per aver rispondito. Allora, come disegna... Il design, no? Come la musica disegna la realtà che ci circonda e l'arte? Come influisce? Beh... Allora... Allora, diciamo che la musica abbraccia il design, perché si abbracciano in realtà quattro obiettivi. Conoscenza, analisi, sintesi e comunicazione. Per cui riuscire a portare a termine, a raggiungere questi quattro obiettivi, significa riuscire ad ottenere un risultato che sia la musica, che tante forme d'arte, dal design, non so, a parte le forme d'arte per eccellenza, come la scrittura, come la poesia, come la pittura. Credo che il design, all'epoca, al giorno d'oggi, stia per fare... stia in una linea di confine, no? Il passaggio tra forse una... non dico scienza, ma comunque un'arte che sta entrando proprio nel cuore delle persone, nella mente, negli occhi. Quindi concilia molto l'aspetto musicale. Cioè, il design è musicale. Ecco, questa frase è figa, la metteremo come titolo proprio del video. Ci deve essere musica. Io entro qui dentro e vedo che c'è musica. Grazie. Stai parlando di me, lo specifico. Anche. Però non musica a clavice in balistica. Più novecentesca, più trasversale, più orizzontale. Insomma, poi ne parleremo quando ci verrai a trovare il 30 settembre. Sì, è vero, perché se no poi ci stiamo perdendo. Allora, ricordiamo i riferimenti link. Allora, www.scuolamusicapianosolo.it Intanto. Ok. E lì vedi tutto quanto. Poi, domenica 30 settembre, attenzione, open day, ma attenzione, inaugurazione della nuova sede, che è una scuola di musica, ricordo, e un centro di produzione musicale. Quindi faremo tanti dischi, faremo dei piccoli concerti. Figo. Berremo il caffè. E poi c'è la cantina. E poi c'è la cantina, quella... Solo per i migliori, player. Solo per i migliori, ancora da scegliere i vini bianchi e rossi. Bravo. Io Montefalco. Tu Montefalco. Sì, rigorosamente. Va bene. Direi che è stata una intervista inusuale, ma bella. Ti ringrazio molto. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e un saluto. Al top. Direi. Ciao, ragazzi.